Asset class, obiettivi e scelta dell'investimento idoneo. Per scegliere l'investimento finanziario con un rischio contenuto ed un guadagno soddisfacente, è necessario valutare diverse variabili, tra cui quali l'orizzonte temporale, gli obiettivi di investimento e le asset class. Le asset class rappresentano sostanzialmente ciò sul quale si decide di puntare, la classe di investimento sulla quale si decide di investire. Tra le asset class nelle quali confluisce la maggior parte degli investimenti figurano, titoli a reddito fisso azioni commodities, valuta estere opzioni binarie e i rendimenti legati a ciascuna di queste asset class differiscono e in generale si hanno rendimenti bassi o nulli se si richiede un facile accesso al denaro investito e la garanzia di avere intatto il capitale investito. Il profitto varia in base al tipo di investimento scelto e al tipo di pagamento prospettato. Pertanto il rendimento sarà dato da, interessi da depositi in contanti e titoli a reddito fisso dividendi da investimenti in azioni, differenza tra prezzo di vendita e acquisto da plus valenze e minus valenze. Aspetti da tenere a mente. Coi conti correnti, conti risparmio, definiti depositi sicuri, il denaro rischia di perdere valore nel tempo in termini reali, potere d'acquisto, in quanto il tasso di interesse pagato non terrà sempre il passo con l'inflazione. I conti deposito, della cui sicurezza abbiamo già parlato, sono ottimi strumenti per impiegare la liquidità a breve termine ma sono uno strumento inadatto ad investire nel medio-lungo termine in quanto non sono in grado di garantire tassi di interesse consistenti per un lungo periodo se non vincolando la liquidità. Gli investimenti indicizzati, soggetti alle variazioni del tasso di inflazione, non sempre seguono le variazioni dei tassi di interesse del mercato e, nel caso in cui l'inflazione diminuisse, si potrebbe guadagnare meno in interesse di quanto previsto. Il mercato azionario, può sconfiggere nel corso del tempo il problema legato all'inflazione e ai tassi di interesse, ma chiaramente, espone il rendimento alla variabilità intrinseca al mercato stesso. In conclusione, l'investimento ideale è quello che ben si coniuga con il profilo dell'investitore, che è ben diversificato e ha un orizzonte temporale medio-lungo. Per l'esperienza maturata nel settore, noi di Monifarm abbiamo scelto gli ETF e identificato 8 asset class che presentano fra loro un comportamento sul mercato significativamente diverso, quindi rischi e rendimenti altrettanto differenti. La nostra selezione comprende, cash e bond governativi a breve bond governativi paesi sviluppati inflazione bond societari investment, great bond societari high e AMP, bond gov, em azionario paesi sviluppati azionario paesi emergenti materie prime e AMP, real estate in questo caso, attraverso un portafoglio altamente diversificato in termini geografici e valutari, si può contenere il rischio dell'investimento e puntare a un rendimento in linea con il proprio profilo. Grazie a tutti.